Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo video di oggi e siamo su speciale 100 iscritti anche se in realtà siamo 103 iscritti o 104 comunque la scuola è finita ma comunque non è che di questo dobbiamo parlare comunque prossimamente farò sfornerò comunque comincerò a sfornare video a manetta prima se vedevate sfornavo solo un video al giorno ma sinceramente mo comincerò a sfornare proprio video a manetta anche se però non so anche perché ormai la scuola è finita per tutti quindi facilmente potrò sfornare almeno penso uno due video al giorno poi dipende da quello che volete voi comunque non mi immaginavo che arrivavamo ai 100 iscritti cioè 100 veramente ne siamo 103 ma fa niente comunque devo ringraziare veramente molte persone tipo tiziano davidi 249 marco marrone anche se però il comarrone manuelito e tutti i miei altre persone che si sono iscritte che siamo arrivati a questo epico traguardo cioè non mi immaginavo neanche ho detto ma si tanto arriviamo ai 50 iscritti e stoppiamo invece 103 iscritti beh siete grandi ragazzi siete grandi iscritti comunque se volete qualche altro gioco nel canale youtube non sarebbe male eh non sarebbe male anche perché come gioco del 64 c'ho solo sti qua non è che ho tanto eh se volete un gioco in particolare ritelo nei commenti eh non vi costa niente beh comunque se volete fare domande fatele comunque comunque continuerò a fare qualche gioco androide in più bello anche perché ne ho altri gioco androide da proporvi e attenzione se credevate che che gioco androide a vostri film no eh no sbagliatevi ho altri giochi da proporvi che sono veramente belli per carità non fanno schifo però non sarebbero male se li giocheriste comunque beh detto questo è tutto lo speciale 100 iscritti è finito e ci ritroviamo al prossimo video ciao ciao Grazie.